Cominciamo con la terza parte per creare una piccola parte giocosa, scusate la ripetizione andiamo in variabili e aggiungiamo una seconda variabile che chiamiamo corrette questa seconda variabile ci servirà per contare quante sono le risposte corrette nel frattempo io mi sono spostato i blocchi là in alto in modo tale da farmi un po' di spazio rifaccio uno zoom per farvi vedere un po' meglio cosa facciamo? Prendiamo due blocchi porta, porta corrette a 0 che serve sempre per contare quante risposte corrette faremo e un altro porta per mettere la variabile sfondo di nuovo a 2 perché questo? Perché il gioco, vedrete, sarà proprio questo abbiamo una prima parte, che è quella che abbiamo fatto nei due video precedenti di lettura e di pronuncia dei vari vocaboli dopodiché ripartiamo facendo chiedere a Scratch di scrivere la traduzione dell'immagine che viene mostrata naturalmente si parte dal 2 e quindi porta sfondo a 2 per rincrementare il ciclo come prima dovremmo usare il nostro ripeti 10 volte e imposteremo ad 8 e utilizziamo lo stesso blocco di prima quindi andiamo in aspetto passa lo sfondo e se vi ricordate al posto del nome mettiamo la variabile sfondo benissimo e adesso partiamo già con la soluzione che abbiamo dotato prima degli eventi, dei messaggi allora andiamo in situazioni prendo un invia a tutti e attendi e poniamo la creiamo un nuovo messaggio che chiamiamo domanda benissimo dopo vedrete cosa ci serve questa cosa a questo punto prendiamo un blocco nuovo interessante che troviamo in sensori chiedi e attendi lo posizioniamo qui e scriviamo scrivi la tua risposta in questo modo quando noi anzi ve lo sgancio ve lo faccio vedere cosa succede quando io clicco vedete cosa succede anzi facciamo così io ve lo faccio vedere un po' meglio allora clicco sul blocco vedete che il gattino scrive scrivi la tua risposta e qui compare una casella di testo dove noi dovremmo andare a scrivere la nostra risposta in inglese alla domanda che ci farà che ci farà scratch bene la posizioniamo qui dentro benissimo e adesso dobbiamo determinare se la domanda che vedremo dopo che ci verrà posta da scratch è giusta o sbagliata se è giusta se è corretta il gattino ci scriverà e ci dirà ottimo se è sbagliata invece dovrà dire sbagliato naturalmente se è giusta dovranno essere incrementate anche la variabile corretta quindi siamo nel campo delle condizioni andiamo in controllo e dobbiamo prendere un se allora altrimenti lo posizioniamo qui sotto se la risposta è giusta allora farà una cosa altrimenti ne farà un'altra per determinare se la risposta è giusta dobbiamo andare in operatori e utilizzare un operatore di uguaglianza che vedete ha la forma esagonale e si incastra perfettamente nel nostro se allora come facciamo a determinare beh allora dobbiamo dire se la risposta e se voi andate in sensori subito dopo il chiedi attendi avete un blocco che si chiama risposta dobbiamo chiedere vedere se la risposta è uguale a cosa è uguale a la traduzione dello sfondo in cui ci troviamo usiamo il trucchetto di prima quindi andiamo in traduci prendiamo il blocco di traduzione naturalmente dovremo tradurre il nome dello sfondo in inglese in questo modo e come prima dovremo prendere il blocco per lo sfondo impostandolo ricordatevi a nome verificate questa cosa in questo modo noi cosa facciamo verifichiamo che la risposta che verrà scritta sia uguale al nome dello sfondo tradotto in inglese se questa coincide è corretta allora facciamo questa cosa pronunciamo la parola ottimo e dobbiamo aumentare scusate non questo cambiare la variabile corretta di 1 altrimenti ancora da test scusate non da testo a voce ma si da testo a voce altrimenti scriviamo sbagliato ok sbagliato oppure non corretta insomma vedete voi cosa scrivere bene fatto questo dobbiamo come prima aggiungere il blocco cambia lo mettiamo subito dopo il se e dobbiamo dirgli di incrementare la variabile sfondo in questo modo andrà avanti il ciclo facciamo un'ultima cosa sempre in ambito storytelling che è questa è una cosa attenzione un po' non complicata dobbiamo fare un attimo attenzione allora prendiamo sempre da pronuncia lo mettiamo qui sotto poi vi spiego cosa succede poi andiamo in operatori e prendiamo il blocco unione di nel primo elemento aggiungiamo la variabile corrette e nel secondo elemento facciamo spazio risposte corrette su 8 cosa succederà finito il ciclo delle 8 foto scratch pronuncerà la frase 8 risposte corrette su 8 oppure 6 risposte corrette su 8 quindi ci darà un piccolo feedback del del lavoro che abbiamo fatto vedete voi poi potete aggiungere altre cose 8 risposte corrette su 8 fate pronunciare un'altra fase bravissimo bravissima oppure attenzione devi ripassare quindi potreste creare delle altre condizioni da qui in poi potete un po' sbizzarrirvi tenendo conto che se voi dico a voi di sbizzarrirvi in realtà l'invito a far sbizzarrire i vostri alunni perché se voi volete fare delle attività di pensiero computazionale queste cose non dovete solo spiegarle è interessante spiegarle come strumento quindi un'attività strumentale ma poi se il vostro intento è quello di arrivare anche a fare pensiero computazionale far maturare le competenze di questo tipo è quelle di dare lo strumento ma poi lasciare che i ragazzi lavorino terminiamo con la parte della domanda cioè cosa succede quando noi inviamo l'evento domanda allora mi sposto beh lo possiamo fare anche qui sotto non è un problema andiamo in situazioni quando ricevo domanda prendiamo da aspetto quindi come prima una parte scritta e una parte letta dire ciao per due secondi usiamo lo stesso blocco di unione che abbiamo usato per far pronunciare quella frase unione di al suo interno nel primo elemento scriviamo come si dice spazio aggiungo uno spazio iniziale perché altrimenti sarebbe tutto attaccato se vedete questo effetto se vedete il fatto che le parole sono attaccate aggiungete uno spazio e prendo da aspetto il blocco nome sfondo come si dice nome sfondo verrà vedete come si dice scrivere prendo ancora da situazioni il blocco quando ricevo domanda e da testo a voce prendo intanto usa lingua e lo metto in inglese scusate lo metto in italiano ok poi il blocco pronuncia dove scriveremo come si dice vabbè metto un tre puntini come si dice come è sospensione e prendiamo il blocco di nuovo pronuncia e per comodità lo faccio da qui lo duplico e lo metto qui dentro in modo tale che venga pronunciata il nome dello sfondo quindi l'effetto sarà come si dice scrivere ok se noi non sto qui ad avviare tutto il ciclo perché è lungo poi da fare ma otterremo lo stesso effetto di prima verrà prima verrà contemporaneamente letta la parola e pronunciata l'effetto vedrete sarà che quando noi facciamo da qui partiamo da qui provo ad avviarvelo in questo modo come si dice scrivere allargo ok to write e si dice ottimo ok e così via provate dovrebbe funzionare se avete seguito un po' tutte le varie le varie fasi mi raccomando un errore che vedo spesso quando vengono trascinati i blocchi sia per quanto riguarda le variabili il porta il cambia il nome degli sfondi e così via a volte ci si dimentica di cambiare l'opzione interna fate attenzione a queste piccole cose ma dovrebbe poi funzionare tutto correttamente vi invito come al solito a provare a modificare a fare le vostre non prendete mai un lavoro fatto in scratch così com'è non usatelo io vi consiglio meglio potete usarlo anche come gioco in classe da far fare ai vostri alunni ma trovo molto più interessante il fatto che voi assegnate una volta che avete spiegato come funziona lo strumento e avete spiegato alcune cose trovo più interessante che diate ai vostri ragazzi l'idea di creare un loro gioco su un argomento che avete fatto magari in quei giorni in classe bene con questo abbiamo terminato ci vediamo con il prossimo tutorial con il prossimo Grazie.